Benvenuti! Oggi parliamo di Virplus, un prodotto che abbiamo pensato proprio per riunire tutte le molecole che erano state studiate nel primo anno del covid proprio su questo virus. Ve lo faccio vedere. Virplus contiene tutte le molecole che sono state studiate proprio per il covid. Allora, in particolare c'è acelticisteina e speridina che bloccano l'adesione della spike ai recettori e poi ci sono quercitine e lattoferrina invece molto studiate proprio per bloccare la replicazione del virus. Questi due meccanismi, si direbbe che uno potrebbe essere più usato in prevenzione e l'altro in modo più curativo, devo dire che diversi medici l'hanno usato a dosaggi molto bassi in prevenzione e a dosaggi un po' più alti invece quando la persona chiamava per dire che era positiva. Inoltre, Virplus contiene resveratrolo, antiossidante dei vasi, proprio perché il covid è una patologia che è risultata molto dannosa per i vasi e quindi per iniziare a fare un lavoretto anche su quello. Poi contiene dello zinco per aiutare un pochettino le difese immunitarie che insieme alla lattoferrina appunto fanno anche questo lavoretto di sostegno dell'immunità. E poi contiene del cromo perché il virus ha creato diversi casi di insulino resistenza. Quindi diverse persone hanno riscontrato di avere molti zuccheri nel sangue dopo l'infezione. Questo fa sì che poi esatto i vasi siano un po' più predisposti ad essere infiammati se c'è tutto questo zucchero che ci circola dentro. Se volete approfondire trovate il link alle schede in descrizione, trovate anche il link del profilo Instagram e Facebook, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo tale da rimanere aggiornati. Al prossimo video! Al prossimo video! Al prossimo video!